Virgilio ne aveva approfittato per dare qualche informazione in più rispetto all'organizzazione dei gironi. Il settimo cerchio è quello dei violenti, diviso in tre gironi, cioè tre sezioni. Il primo è quello dei violenti contro il prossimo, cioè gli omicidi. Il secondo è quello dei violenti contro se stessi, cioè i suicidi e gli scialacquatori. Ed è qui che ci troviamo adesso. Infine il terzo ospite è i violenti contro Dio, dunque bestemmiatori, sodomiti e usurai.